Proponendo un immaginario tolkeniano che deve quasi tutto alla trasposizione cinematografica di Peter Jackson, l'ombra di Mordor ambienta la sua storia a cavallo tra lo Hobbit e il Signore degli Anelli. Il protagonista Talion è uno dei ramminghi posti a guardia del Nero Cancello, proprio nel periodo in cui l'oscuro Signore, tutt'altro che sconfitto, riarma in segreto gli eserciti degli Orchi per marciare sulla Terra di Mezzo. Le prime avvisaglie del lungo conflitto che seguirà ricadono proprio su Talion e la sua famiglia, massacrati da uno dei luogotenenti di Sauron durante un'incursione. Il nostro tuttavia sorgerà a nuova vita grazie all'intervento di un Vraid, ossia uno degli spiriti dell'universo tolkeniano. A ridosso del prologo, in grado di introdurre efficacemente la storia e le meccaniche di base, la componente free roaming che caratterizza l'ombra di Mordor si apre istantaneamente al giocatore, esplicitando da subito una netta divisione dei contenuti. Da una parte c'è la progressione legata alla trama, fatta di missioni principali introdotte da sequenze filmate, dall'altra i contenuti secondari, sotto forma di quest volte a potenziare i letterarmi principali del protagonista e all'approfondimento di alcuni retroscena della vicenda. Alla base c'è un percorso di vendetta, con lo scopo ultimo del protagonista che diventa rintracciare i mandanti del massacro e ripagarli con la stessa moneta. Il motore che muove buona parte dell'azione proposta dall'ombra di Mordor è rappresentato dal Nemesis System, un sistema procedurale che si occupa di generare in maniera casuale i vari capitani dei ranghi degli orchi. All'inizio di ogni nuova partita il Nemesis genera un certo numero di comandanti e sottoposti, ma come esplicitato dalla schermata delle gerarchie, questo scenario iniziale sarà sottoposto a imprevedibili mutazioni. Il migliore strumento che il giocatore ha a propria disposizione per mettersi sulle tracce dei capitani è la raccolta di informazioni. Per ottenere le fondamentali indiscrezioni sarà necessario interrogare i vari sottoposti, dopo averli adeguatamente indeboliti a fil di spada. Una volta soggiogati, questi riveleranno posizione e punti di forza e debolezza dei capitani, permettendo al giocatore di elaborare una strategia. Alcuni comandanti infatti avranno una particolare paura del fuoco, altri saranno vulnerabili agli attacchi furtivi o terrorizzati dai mannari. Per quanto si possa decidere di ignorare completamente queste peculiarità, scoprirle e sfruttarle a proprio vantaggio rappresenta una delle dinamiche più riuscite di tutta la produzione. Per quanto il livello medio di difficoltà purtroppo non personalizzabile sia piuttosto permissivo, capiterà a volte di perire nel tentativo di eliminare uno dei boss. A quel punto Talion verrà immediatamente resuscitato dal Wraith, ma nel frattempo il Nemesis System farà il suo dovere, generando una serie di avvicendamenti al potere e facendo sì che il boss si ricordi del precedente tentativo di assassinio. A circa metà dell'avventura, oltre a presentare un'ambientazione inedita, l'ombra di Mordor andrà ad arricchire il sistema Nemesis di una nuova interessante possibilità. Talion guadagnerà infatti un'abilità utile a soggiogare gli orchi, creando piccoli eserciti destinati a combattere al suo fianco nelle missioni conclusive. Considerata una longevità media della campagna in grado di attestarsi intorno alle 15 ore, con almeno un'altra decina necessaria al completamento delle attività secondarie, è interessante riscontrare come i ragazzi di Monolith siano riusciti a costellare l'intero cammino di Talion di un costante senso di crescita e sblocco di nuove possibilità, ottimo per mantenere alto l'interesse del giocatore lungo tutto il travagliato viaggio del ramingo. Le componenti action ed esplorative dell'ombra di Mordor sono state esplicitamente derivate da due saghe di grande successo nella scorsa generazione. L'arrampicata dinamica arriva direttamente da Assassin's Creed, così come lo sblocco delle torri presenti in ogni regione e le mosse di eliminazione furtive, mentre il combattimento si ispira al free flow combat ideato da Rocksteady con la saga di Batman. Per chi conosce bene queste due produzioni, la palese ispirazione potrebbe inizialmente essere fonte di relativa delusione, ma approfondendo risulta evidente come i ragazzi di Monolith siano riusciti a far proprie le meccaniche. Agli attacchi di spada, che si concatenano automaticamente in combo, si affiancano i poteri del Wraith, tra cui un arco spettrale con cui eliminare dalla distanza e un teletrasporto attivabile solo in seguito alla spesa di punti nelle schermate di potenziamento del personaggio. A proposito di queste ultime, le possibilità offerte al giocatore si presentano in buon numero e comprendono anche le tre armi di Talion. Per quanto queste ultime non siano sostituibili, sarà comunque possibile migliorarne l'efficacia grazie ad apposite rune, che potranno essere sbloccate eliminando i capitani. Come già accennato, l'ombra di Mordor ispira il suo design, senza mezzi termini, all'opera filmica di Peter Jackson, sia dal punto di vista paesaggistico che da quello del design di fisionomie, armi ed armature. Di certo, gli ambienti proposti non sono tra i più vivi e vari che abbiamo mai visto in un free roaming, e le motivazioni narrative reggono fino ad un certo punto. Le due vaste mappe presentano un evidente riciclaggio dei medesimi asset grafici, e sebbene il colpo d'occhio complessivo si riveli tutt'altro che spiacevole, la varietà non rappresenta certo un punto di forza. Dal punto di vista tecnico abbiamo avuto modo di testare sia la versione PC sia quella PlayStation 4, riscontrando in entrambe un buon lavoro. Nel primo caso fa piacere trovare un menu delle impostazioni grafiche piuttosto approfondito, e naturalmente un'effettistica più avanzata, che restituisce visuali molto pulite, unita ad una discreta scalabilità. La versione console rinuncia invece a una parte dell'effettistica, con una tassellation evidentemente ridotta, un anti-aliasing meno efficace e texture dal look più piatto, ma nel complesso il colpo d'occhio regge, e l'ottimizzazione si è confermata di livello, con un framerate in grado di non mostrare evidenti cali rispetto alla media dei 60 fps. A fronte di meccaniche di gameplay non solo classiche, ma addirittura palesemente derivate da classici del genere, le vicende del Ramingo Talion sono riuscite ad intrattenerci e convincerci per un quantitativo di ore davvero notevole. Al netto di una ripetitività avvertibile soprattutto nella seconda metà, di un'ambientazione oggettivamente troppo spoglia dal punto di vista visivo e di qualche svista nel sistema di controllo, l'ombra di Mordor ci ha sorpreso, e apre alla grande questa stagione autunnale. Lo consigliamo senza remore agli appassionati di action-adventure, con particolare menzione a tutti coloro particolarmente affezionati all'opera del professore e alle sue trasposizioni cinematografiche.